Ragazzi è uscito il mio nuovo libro, non c'è due senza me, di tutte le librerie d'Italia, correte a prenderlo e lo trovate anche su Amazon, vi lascio il link di iscrizione nel primo commento Mentre sempre in tutte le librerie d'Italia è uscito il mio album con le figurine, con un gioco di carte e un sacco di sticker da collezionare Tutti qui su Brookhaven vogliono il pass VIP, uno dei pass più desiderati che praticamente ti dà uno status qui su Brookhaven Sì, vedete il riconcino che ho addosso? È quella che hanno i VIP E giustamente, sapete quanto costa questo pass? Jenny lo sai quanto costa? Tipo mille robux o qualcosa del genere E tutti dicono giustamente nei commenti, ma io non posso prenderlo, io non posso comprarlo, costa tanto, tantissimo E avete ragione, e quindi oggi troviamo una soluzione Perché oggi ragazzi proveremo ad accopiare tutto il pass VIP e ricrearlo da zero senza spendere robux oppure pochissimi Sei pronta? Allora Assolutamente sì, allora l'avrei fatto anche io se avessi fatto questo video prima, senza spendere questi robux Vediamo cosa aggiunge il nostro fantastico VIP pass Aggiunge un'etichetta chat VIP, cioè che quando tu scrivi accanto ti spunta la scritta VIP Cosa ragazzi? Che è facilmente, si può fare facilmente gratis Jenny Andate sul vostro account, andate su modifica nome Andiamo sul nome visualizzato e all'inizio qua del nome mettiamo VIP trattino basso Jenny Semplicissimo Così ogni volta che io scriverò Jenny c'è la scritta VIP prima del mio nome Quindi è come averlo Come potete vedere ho sempre la scritta gialla Però invece di essere il VIP tra parentesi Sì Jenny fai vedere il tuo di VIP, vai faccelo vedere Ciao Invece di essere tra parentesi come quello di Jenny Noi abbiamo il trattino basso Ragazzi uno che non è abbastanza sveglio non se ne accorge Quindi abbiamo risolto il primo problema Un altro dei problemi che effettivamente hanno solo i VIP, cioè sono le particelle Le particelle più belle ce l'hanno solo i VIP Sì 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 Come per esempio andare a fuoco Non ho un modo per rifarle, sai? Mi so che l'avevi fatto vedere anche in altri video ma ce lo farai vedere meglio ora Guarda ci sono tantissime particelle che sono VIP E ovviamente quelli non, insomma VIP non potranno mai utilizzarla Ma ed ecco qua che spunta il segreto per avere tutte queste particelle gratis Come potete vedere Jenny ha il fuoco E anche noi vogliamo il fuoco addosso no? Perché ci renderebbe in questo caso un VIP Allora cosa facciamo? Ci sono diversi codici per avere le particelle gratis qui su Brookhaven Il primo è questo, è un codice lunghissimo Quindi datevi il tempo di copiarlo Perché una volta inserito ci darà un oggetto, uno zaino E questo zaino, come puoi vedere Jenny, prende fuoco Dimmi la differenza tra te e me È molto carino Semplicemente non ce l'ho addosso Non c'è nulla Sì esatto, però posso dirti una cosa Se tu prendi fuoco su Brookhaven Comunque hai questo esatto effetto Sì ovviamente, però non è che dura all'infinito Invece questo oggetto sì E non finisce qui Giusto, giusto Però qual è la differenza tra me? Che a te va sì nel corpo Come a me andava nel corpo Ma ti va anche sopra la testa Se noi utilizziamo questo codice qua 233705354 A me il fuoco andrà anche sopra la testa In questo modo Ok Ed è lo stesso colore dell'altro fuoco che ci hai fatto vedere poco fa Infatti, quindi se lo uniamo allo zainetto Ecco qua Sto andando a fuoco anch'io Anzi, se posso essere sincera è più e più figo il mio effetto che il tuo Cioè, molto più bello E a tutto questo, Jenny, uniamo un altro codice Che è questo qui Guardami, Jenny, guarda, guarda, guarda 527364921 E ho ancora più fiamme addosso Guarda qua Guarda la differenza, ragazzi Wow Questo senza E io non c'erò una cosa del genere E questo è con il pass VIP E noi l'abbiamo ottenuto completamente gratis Ovviamente sì, il fuoco è una delle cose più utilizzate Ma si può fare con altri tantissimi tipi di effetti Ok, Jenny, adesso io mi metterò vari oggetti Mi raccomando, segnatevi, ragazzi, i codici E Jenny proverà a replicarvi vedendo che cosa lei può fare con il VIP Comincio da questo codice lunghissimo Che mi mette sopra la testa questo scogliattolo E mi mette le caramelle, quelle che abbiamo avuto per Halloween come particelle Ah, che carino Allora, tu ce l'hai col VIP, fammi vedere Caramelle, ho questo Ok, è molto simile, effettivamente Solo che il tuo è più luminoso Eh, caramelle... No, non ho caramelle, ho le stelline forse Vedi, addirittura tu hai pagato e tu non ce l'hai Allora, andiamo al prossimo, allora Questa è già una cosa in più che io ho gratis Questo codice qua Che sì, ho la testa da scogliattolo Però faccio le ghiande So che non ce l'hai, quindi andiamo avanti No, le ghiande non ce l'ho, ho ancora stelline Però andiamo con quelli che si avvicinano di più ai VIP Queste ali qua mi mettono le foglie Questo ce l'hai le foglie Guarda qua che effetto fa Credo di sì, aspetta Guarda qui Non è vero, non ci sono, però Non ce l'hai? Nemmeno le foglie No, no, no Sono molto simili Ti posso permettere di più Però cavolo, le foglie sono belline da avere Sono bellissime Poi cambiano pure colore, guarda Ti faccio vedere un altro effetto fichissimo Con un altro oggetto E poi ti faccio vedere quelli che sono proprio copiati dai VIP Gratis Allora, questo qui, guarda la mia schiena Ok, ce l'ho, aspetta Ce l'hai? Uh, ce l'hai, è vero Tipo, tipo Ok, siamo molto simili Ragazzi, vedete che stiamo ricopiando tutte le particelle praticamente senza spendere nemmeno un Robux E andiamo in quelli che praticamente sono clonati Guarda qua Questo qui, no, questo non ce l'hai Però posso vedere No, questo non ce l'hai Non ho oggettini che cadono Vedi, vedi Le angurie E ti faccio vedere quelli invece che sono quelli proprio da VIP Sono gratis con questi oggetti Con questi codici Uno Guarda qua i cuori I cuori ce li dovresti avere Ah sì, no, aspetta I cuori dovresti averci Questo Esatto, guarda qua E con questo codice ragazzi Lei ha speso 1000 Robux Noi abbiamo messo un codice E i tuoi sono pure più carini Guarda, io ho delle cacchettine Sì, guardate la differenza Lei ha dei cuori super super piccoli Io ho dei cuori giganti E poi andiamo a quelli ancora da più VIP Che ragazzi se ve li mettete non vi confonderanno Che lo avrete veramente Questo è il primo codice Che mi mette queste stelline sul corpo Guarda qua Jenny Ok, io ho queste Però aspetta Forse queste Guarda, sono queste Bravissima, vedete? Col codice identico Guarda qua E andiamo poi Io ho meno stelline di te È assurda questa cosa È assurda, vero, vero Sembro più VIP io di te in questo momento E poi l'ultimo codice Che mi mette le stelline gialle in testa Questa dovresti avercene pure tu Eh, ho sempre le stelline così Guardate ragazzi Ho pure così Senza spendere nulla Abbiamo ricopiato Una delle cose principali Che ti dà il VIP Ci siamo? Abbiamo il nome Abbiamo le scintille Adesso ci mancano Le macchine E gli oggetti È bellissimo questo cappello Sì, grazie Jenny, vediamo se sei brava Cosa è che hanno i VIP Che non hanno le persone normali Normali I soldi Vabbè, no, i soldi A parte quello Pensaci Allora, le macchine? Le macchine VIP Allora, ragazzi Ok, Roby Noi stiamo vedendo come fare il VIP gratis Abbiamo il nick Abbiamo scoperto che possiamo metterci le particelle Però non è che possiamo prenderci le macchine VIP Ragazzi, vi sbagliate Perché possiamo benissimo ricrearle, Jenny Prendiamo per esempio questa macchina qua Oddio, oddio Ok, questa è una macchina VIP Ci sei? Noi adesso dobbiamo ricreare Tu prova a ricrearne un'altra E tu prova a ricreare Ci vuole pochissimo Questa qua Ok? Prova a rifare questa qui Io, ragazzi, vi mostrerò come ricreare questa macchina VIP Completamente gratis Andiamo nelle macchine normali Come potete vedere Questa è una macchina molto alta Quindi dobbiamo cercare Un aspetto specie di jeep Che spoiler È questo, Jenny Proprio È questa macchina qua Cioè, non si può sbagliare Ah, io ho visto metterlo un'altra Secondo me è anche molto simile No, non è questa Secondo me è quella tipo Con la barra dentro nel cofano Quella che devi fare tu Ok? Ah, DC? Sì, sì Prendiamo questa macchina Che è una macchina normalissima Gratis La mettiamo dello stesso colore Quindi in questo caso Verde Ok, adesso proviamo a farla Il verde più Questo verde direi che è perfetto Qual è la differenza? Ha delle ruote alte Noi clicchiamo questo pulsante E ci alziamo le ruote In teoria possiamo cliccare Ok, uno E due E tre E abbiamo le ruote alte Possiamo cambiare il disegno delle ruote Che in questo caso Non c'è bisogno Perché è pure uguale Cosa che ci manca? Le luci rosse qua davanti Come le facciamo? Andiamo a prendere i props Andiamo a prendere nelle luci Prendiamo i cuori E li mettete qua davanti ragazzi In questo modo Cambiate colore Li mettete rossi Uno e due E avete fatto i fari come l'altra macchina Cioè Sono identici Non si può dire niente al riguardo Ora cosa manca? Questa macchina ha sopra una bara Quindi in questo caso noi andiamo a prendere Nella sezione bare Brutto dire sezione bare però è così E proviamo a mettergli una bara qua Dritta sul tetto In realtà è un po' più indietro Quindi una cosa tipo del genere Eeeh Opla Ok E poi ha un'ascia di lato E noi andiamo a cercare l'ascia Che è un props Non si potrà mettere dritta Però insomma Adesso la mettiamo In modo che effettivamente Si veda Come nell'altra macchina Ok Così Perfetto Semplicemente è abbassata Poi ha la faccia Questa qui Che è una specie di zucca Nera Noi andiamo a prendere Questo Ragazzi Una piccola placca La mettiamo di lato In questo modo Gli cambiamo colore La facciamo diventare Lo stesso colore Della macchina Che si può fare benissimo Come potete vedere Ok Ci siamo Addirittura la facciamo Forse pure più bella Di quella VIP E poi cliccando sopra Cercate su internet Text emoji Pumping face Cliccate il secondo E come potete vedere Vi spunta Questa qui anche Una di queste facce Una dei due Clicchiamo qui Ricopiamo il testo E ok Cambia colore Però in realtà Possiamo in teoria Farlo pure nero Se utilizziamo Il cartello bianco Quindi ci riproviamo Un attimo Ok Mettiamo questo così Copiamo Qui adesso diventa nero Cambiamo il colore Del Della macchina In questo modo In teoria Potremmo farlo ancora più simile E abbiamo lo stesso simbolo Lo dobbiamo fare Anche dall'altra parte Uguale Quindi mettiamoci qua E rimettiamo lo stesso simbolo Ma da questo lato Guarda Jenny Tu come sta andando Tutto a posto Sì sì Molto bene Molto bene Ok E abbiamo anche gli stessi disegni Vogliamo addirittura cercare Ecco guardate Pure sul retro C'è la Come si dice La bara Noi andiamo Nei props di nuovo Andiamo a cercare la bara La mettiamo di lato Come quella In questo modo Perfetto E vedete che in questa qui c'è scritto Solo rip Noi clicchiamo Cancelliamo Le frasi Mandando invio E l'abbiamo praticamente fatta Cosa ci manca Praticamente niente Sì è un po' più bassa Ma è identica A quella VIP Jenny Vieni qua Vieni a valutare Guardami Guardami Oh mio Dio Le hai fatte identica Le hai fatte identica Sì sì ho fatto Gli scheretti che escono dalla macchina È uguale L'unica differenza è che ci sono queste striature rosse Però ragazzi ma chi se ne frega delle striature rosse Cioè sono due macchine copiate perfettamente Uguali a quelle VIP Posso cambiare il colore della macchina Solo che No però viene bruttina Va bene Ok Conserviamoci le nostre due macchine fake ma VIP gratis Jenny Cosa è che hanno un'altra cosa che hanno i VIP Vediamo se sei brava Pensaci un attimo Non lo so Case Hanno case i VIP No non hanno le case Però hanno qualcos'altro di esclusivo rispetto agli altri Pensaci un attimo Props può essere Bravissima Ci sono dei props che sono solo per i VIP Cosa secondo me ingiusta Però va bene Come possiamo ottenerli gratis Jenny Questo è uno degli oggetti VIP Ok Ci sei? Qual è la cosa che lo rende VIP Che ha più fucili Ok Rispetto a quello gratis E poi hai una sediolina dove ti siedi e spari Noi possiamo ricrearlo Stupidissima Una sedia Basta mettere una mitragliatrice e una sedia dietro Noi possiamo ricrearlo perfettamente gratis Uno Prendiamo un bellissimo Come si chiama Jenny? Tu che sei intelligente Telescopio Telescopio In questo modo Vogliamo più fucili Ok Li cominciamo a unire come l'altro Ok Perfetto È diventata una mitraglietta a tre Cosa manca rispetto all'altra? Ma questa mica è una mitraglietta a tre Ce ne sono una Ok possiamo lasciarlo allora anche a una Era per farla ancora più figa Vabbè ci siamo Cosa manca? Qua mi posso sedere? Qua no Ok Una sedia Una sedia Prendiamo una sedia La prendiamo dello stesso colore Piccola così Facciamo in questo modo E abbiamo la stessa mitraglietta Senza speso Nulla Nulla Altri oggetti VIP sono quelli per le macchine Bene Quali sono gli oggetti VIP Allora c'è una lettone Ok vediamo un attimino Ci sono Ok di VIP abbiamo questo Che è semplicemente l'altro ma più lungo Quindi come facciamo questo oggetto? C'è questo qui Che è quello letteralmente più piccolo No Jenny? Mettiamolo Mi mette un paio Esatto Mettiamolo uno E un altro attaccato due Aspetta cerchiamo di renderlo più unito possibile Ci siamo? Dimmi la differenza tra questo qua Ma onestamente Ma poi è pure ingombrante quello Ok ma la differenza non c'è Ne abbiamo ottenuto un altro gratis Stessa cosa per l'elettone Qual è la differenza tra un elettone normale e uno VIP Che è molto più in alto Ok? Ma questa cosa possiamo farla benissimo anche noi Se noi mettiamo un alettone Ok qui dietro E sopra questo alettone proviamo a mettergliene un altro Poi mettete tanti props per cercare di fare qualcosa in alto Andate a prendere di nuovo l'elettone Ok questo qua E glielo impiccicate sopra Bomba ragazzi E l'abbiamo messo più in alto Ok Jenny Vedi che abbiamo l'elettone in alto Ora cosa facciamo? Dobbiamo riattaccarlo alla parte di sotto Giusto? Quindi proviamo facendo qualcosa di simile Vediamo No questo è troppo grande ad esempio Prendete le corde Divi se non sono il genere Le corde quelle per insomma chiudere Cambiate colore e le fate diventare nere Ciao Jenny abbiamo l'elettone più in alto È perfetto È un altro oggetto gratis L'abbiamo fatto E anche per gli oggetti abbiamo risolto Mancano due cose Jenny Uno è il nome arcobaleno Giusto? Però faccio vedere il tuo Ah quello è difficile Come fai? Allora aspetta Devo andare Vai faccio vedere il tuo nome arcobaleno Vai Vedete scrive il suo nome Jenny E lei cambia colore Ascolta Ma riscate Però se ci pensi È una cosa stupida Certo non è utile a niente Però se io mi scrivo Roby Ok senza i VIP E continua a cambiare colore in questo modo Ok? Spammando Cioè ho fatto il tuo stesso effetto Sì Sì Anche perché io ho tre diversi effetti Posso farlo anche più lentamente È vero Esatto Lo puoi fare anche più lentamente Dico ragazzi Anche questo è una cosa facilmente replicabile Certo Ti rompe le scatole Cliccare ogni volta il pulsante Per cambiare manualmente il nome Ma se qualcuno mi si avvicina a me Fa fammi vedere che sei VIP Io comincio a fare così Eh infatti Cioè qual è la differenza? Nessuna Nessuna Continuando a cambiare colore Ma una cosa effettivamente difficile c'è Che è avere il ruolo Con scritto VIP Sopra la testa Jenny Che è quello che hai anche tu Bene Ho trovato un metodo Per cercare di creare Una versione fake e clone Di questo simbolo qui Su Roblox Oh mia scopriosa di questa cosa Costerà tipo 100 Robux Ma anzi non ne costa 1000 Quindi vediamo Ragazzi Dobbiamo comprare due oggetti Uno è questo qui Che si chiama Fascia per le orecchie Topo Nera Ok E costa se non sbaglio Tipo 80 Robux Anzi no Forse di meno 30 Robux E ci serve questo cerchietto qui Oltre a questo cerchietto Ci servirà La coroncina di Jenny Che costa tipo 50 ragazzi Questa coroncina qui Bellissima Che si chiama Corona galleggiante Ora Comprando questi due oggetti Che vi viene praticamente 100 Robux Dovete tutte e due Indossarli Ok E in questo momento Sono Topolino Con la coroncina in testa Andiamo Utilizziamo il nuovo aggiornamento Di Roblox E dovete cliccare sotto In vostra avatar Ci sono queste tre lineette Dove vi apre Questo menu Una volta aperto Questo menu Cliccate sul Insomma Sul cappello E poi Ricliccate a destra Sugli oggetti Che state indossando Cominciamo un attimino Sulle orecchie Da Topolino Cliccandole Possiamo come potete vedere Modificare le orecchie Sia di dimensione Che per spostarle Che per alzarle Eccetera eccetera E noi dobbiamo utilizzarle Per creare il cerchio nero Della cosa VIP Ora mettiamo le orecchie in alto Ci siamo Poi andiamo nella sezione Per ruotarlo E le ruotiamo Non in questo modo Ma così Perfetto In questo modo Le mettiamo anche un po' più indietro Ritorniamo su questa sezione Le abbassiamo E le rispostiamo Fino ad farle nascondere Dietro l'altra parte Dell'orecchio nero Dietro il mio orecchio Ovviamente se voi avete dei cappelli Lo selezionate Lo aggiustate Come meglio voi credete Riruotiamo un pochettino Per sistemare questo logo Per bene Perfetto E vedete che siamo riusciti Ad avere Un cerchio nero Dietro la testa Ora lo ingrandiamo Perché vogliamo che il simbolo Sia molto grande E poi lo riabbassiamo Cerchiamo di rispostarlo Di sistemarlo un po' A destra e sinistra E abbiamo Un cerchio nero Sopra la testa Proprio come Quelli che hanno il VIP Su Brookhaven Vedete che hanno questo cerchio In testa nero Certo E meno E' più trasparente Però noi stiamo cercando Di ricrearlo Insomma Nella versione fake Ok Dopo che siete abbastanza Soddisfatti E il cerchio È abbastanza Al centro Clicchiamo Applica Andiamo un attimino Sulla coroncina Ed è il momento Di spostare questa E dobbiamo metterla Perfettamente Al centro Ok In questo modo Del cerchio nero Ovviamente Si vedrà sia davanti Che dietro Però l'effetto Deve essere Super giù Questo Una sottospecie Di coroncina Che si trova Al centro Di questa Immagine Questo cerchio nero Ora Lo aggiustiamo La rimodelliamo Un pochettino E facciamo Applica E abbiamo Come potete vedere Il cerchio Del VIP Sopra la testa Rifatto Con due oggetti Di Roblox Ora Posso addirittura Forse ingrandire Il mio cappello Per nascondere meglio L'altra parte Del cerchio Che effettivamente Non è brutta Come idea Ora Ecco Perfetto Vedete che adesso Lo sono riuscita A nascondere Ancora meglio Forse se ruotassi Anche un pochettino Il cappello Riuscirei Addirittura A nasconderlo Ancora Ancora meglio Però Ce l'abbiamo Ragazzi Se adesso Torniamo su Brookhaven Io mi riaggiusto L'avatar Ecco qua Jenny Che è il simbolo Del buco Sopra la testa Mamma mia Com'è Com'è Certo Non è identico Al tuo Però Dimmi Oh le macchine Sei geniale Allora Abbiamo le macchine simili Abbiamo gli oggetti simili Il nome sopra la testa Adesso io mi metto Senza spendere Mille Robux Cavolo Mille Robux Me li spendo in Vestiti Veramente Ecco qua Abbiamo anche il nome Robby E insomma Poi le altre cose del VIP Sono di avere le macchine Più veloci Per esplorarle E le case più veloci Però Jenny Basta che rientri E esci dal server Puoi mettere la casa Quanto vuoi Quindi insomma Eccoci qua Quindi abbiamo Questo mezzo Fake VIP Completamente gratis E adesso Andiamo a testarlo Sui VIP In giro Per Brookhaven Jenny Vieni alla casa 12 Perché mi sa che ho trovato La casa di Alcuni VIP Che succede qua Aspetta Allora ci sono due tizi E sono col VIP In testa Entrambi E a terra C'è un tizio Senza niente Già non mi piace La storia Te l'ho detto Non facciamo beneficenza Ma Ma Voi avete tutte queste cose Io non ho nulla E dai Vai Almeno mi diverto Un po' Guarda L'unica cosa Che stai facendo È sporcarmi Il vialetto Quindi prima Te ne vai E meglio è Jenny Andiamo Andiamo a disturbare Questa persona Ci mettiamo Scusate La macchina Salve Scusateci Amici Amici Che succede qua Chi siete Siamo dei VIP Come voi Non si nota Guarda Guardami bene Le particelle No Non sei VIP Sì che lo sono Jenny Dio Ma è pure le macchine Scusa Non sono chiaramente Macchine VIP Sì infatti Scusami Allora Facciamo una cosa Visto che Insomma Non sono VIP Come mai posso mettere Le particelle Ma io che ne so Avrei usato Un trucco Beh sì Effettivamente Non abbiamo nessuna differenza Anche Nicola come te E quindi Nulla niente Stai facendo una ricca Antipatica Ma per quale motivo Siamo uguali Beh no Noi possiamo fare un sacco di cose Tipo Quale cosa Cioè Cosa che non ho io Cioè Cosa tu hai Che io non ho Si è messa la scritta Vera VIP Jenny Lascia fare a me È il momento Sì Vera VIP Falla vedere Vai Schiaccio Schiaccio Vai E adesso Adesso che posso fare La tua stessa identica cosa Wow Che bello E quindi Ma non funziona così Sì che funziona così E poi Noi abbiamo dei veicoli esclusivi Ah sì Vediamo Facci vedere questi veicoli esclusivi Stiamo osservando La tizia Che ci sta mostrando Come ha speso Ah Dici che lo dirò Ah Quello è mio Guarda È identico È identico È identico È uguale È solo più basso Ce l'ho anch'io E quindi Ma è diverso È fake Scam Brutto Ok Ma ce l'ho identico Praticamente È solo un po' più basso E ce l'ho gratis Ehm Ehm Noi poi abbiamo Il Il Te lo dico io Non hai più niente Niente Se vuoi provare a metterti Qualche particella Un po' più carina Ce lo puoi fare Però Ti do un piccolo spoiler È inutile che prendi in giro Le persone Dicendo Ah tu sei poverato E sei povero Avete comprato Una cosa Che possono avere tutti Gratis Cosa ti sei messo L'effetto di una scorreggia Ma almeno io Ho le case più veloci Ok Wow Molto da ricca Incredibile Basta entrare nel server Guarda Vai Facci vedere Wow Incredibile Ma poi scusami Ha la skin da bacon Ha shoppato solo il VIP Questa qui Sì 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 Ma Te l'ho detto Sono meglio Spesi per gli outfit I robux Che per questo VIP Wow E quindi la puoi rimettere Quando vuoi Jenny Fai vedere che puoi mettere La casa Esci E puoi rimetterla Per favore Ok Facciamolo con la casa 11 Aspetta Però non vale Tu hai il VIP Ma esco dal server Vabbè Però Metto la casa Ci sei 3 2 Sta per finire di costruirsi Si sta finendo di costruire Si sta finendo di costruire L'abbiamo fatta Ne vado Vabbè Poi quando rientrate ragazzi Potete metterla ovviamente E anche quando vi vanno dalle case Basta uscire e rientrare Si resetta il server Sì ma Sono in entrata Sì ma ci metti un sacco Sarà passati neanche 10 secondi Ovviamente Jenny ragazzi In questo momento Ha un passo VIP Però vale per tutti questa cosa Ci metti un sacco Eh vabbè Vedrai Non è che voglio per 5 secondi Che esco e rientro Ho messo a meno di 30 secondi Eh infatti Vabbè comunque Stiamo aspettando Le altre cose Che io non hai Vuoi parlare del cerchietto Guarda il mio è più carino Cioè se posso essere sincera Il mio è più carino Il tuo è trasparente Eh posso? Ok basta Avete rotto Noi siamo veri Voi no Ok Quindi siete uguali a tutti gli altri Ah le note musicali si è messa Wow Jenny ti sorprenderò Vedi che lei sta flexando Di avere le note musicali Ok Togliamoci il mio effetto di particelle In questo momento Torniamo normale Andiamo nei codici E mettiamo questo codice qua 10 52 74 25 482 Mettiamolo E ho le note musicali anch'io Sopra la testa Guardami Uguale Uguale Anzi più carine pure No più carine no Però sono Cioè è la stessa identica immagine Sono proprio quelle E quindi? Vuoi dire qualcos'altro? Ma allora Perché ho questo pass? Se lo possono fare tutti? Questo è il problema Questo è perché Ho giudicato tantissimo In questi mesi Il VIP Come pass Perché in questo momento ragazzi Almeno che non fanno un aggiornamento Jenny non so se sei d'accordo È praticamente inutile Si può fare qualunque cosa Certo Non è identico Non è la stessa cosa Però Lo puoi fare Però lo puoi fare Ho sbagliato Ho sbagliato Allora Con tutti quei Robux Potevo prendermi una skin Forse saresti sembrata più ricca Con la skin Che senza skin Perché non ha senso Perché ripeto Non ci vuole niente Prendiamo per esempio Quel tipo Posso trasformarlo in 30 secondi Dopo che tu l'hai bullizzato In te Io 30 secondi Fatto cambiare un paio di cose Boom Uguale a noi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Diteci nei commenti chi ha il VIP e se ne sta pentendo un pochettino adesso.